l'aspetto che desidera spiriti narranti attraverso c ballardini e p filippini elvira non farti influenzare da quella foto io non sono più così da tempo ormai ho ripreso il mio aspetto consueto nel mondo spirituale non sono nemmeno rimasta legata all'aspetto dell'ultima vita nella materia come fanno tanti per fortuna non è una regola fissa e qui ognuno può avere l'aspetto che desidera io sono piuttosto legata a vite precedenti quando vivevo in spagna e do di essa un buon ricordo così mi piace mantenere quell'apparenza ma è appunto un'apparenza io sono tornata a me stessa ormai da tempo e sono felice di trovarmi qui tra i miei amici e tutto ciò che amo non ti racconterò il mio passaggio è stato in fondo sereno ma simile a molti altri vorrei parlarti di voi voi che siete ancora lì non sottovalutata l'esperienza è molto importante un'occasione da vivere totalmente voi siete tra quelli che sono stati scelti per un'incarnazione in questo momento non tutti gli aspiranti vengono approvati perciò consapevoli di questo cercate di fare buon uso dell'occasione del vostro tempo non perdete tempo non sprecatelo impiegatelo in opere utili alla vostra crescita perché è quello che importa veramente io a volte vi guardo e vedo tanti che vivono così inconsapevolmente e tanto legati alla materia e suoi giocattoli che peccato un'espressione vitale praticamente sprecata cercate di svegliarvi e di svegliare anche chi ancora dorme non è un sonno innocente ma un sonno colpevole perché spreca una vita fate il possibile per migliorarvi quando tornerete qui ne sarete felici io non intendo fare prediche ma aiutare chi ancora non capisce o non crede alla importanza del cammino dello spirito nella materia sembra una cosa superflua qui è tutto noi viviamo molto felicemente le nostre occasioni di crescita imparate a fare altrettanto non auguratevi una vita tranquilla ma una vita piena di movimento e di occasioni per crescere questa è vita vera ora vi lascio se lavorerete bene tornerete a casa con dei traguardi raggiunti e sarà una gioia doppia ricordatelo buon lavoro elvira